il corpo è grosso però va da lì va da lì quella è grosso il corpo l'ho visto, ho visto oh mamma è una bischia no, è un frustone è un frustone io la faccio con fuori io la ho visto ora ci arriva sull'albero oh mamma il video gli fai il video? oh mamma il meglio è grosso guarda a me i bambini oh mamma i bambini ha paura è benedosa che un po' dove